Ecco vediamo la camera alta, vedete come si mettono sulle gambe i cavalli, poi chiaramente molti già recuperano il cavallo e frenano. Andiamo al primo San Martino con la Civetta che ha fatto un tempo di galoppo impegnato e gli altri che stanno seguendo, per cui c'è già chi ha ripreso il cavallo e sta facendo una sgambatura. E qui è l'onda che prende la prima posizione, l'onda seguito, ecco l'onda sempre in totale tranquillità con un forte distacco da parte degli altri che va al secondo San Martino. Vedete come sono belle le traiettorie che con la camera alta riusciamo a vedere, riusciamo a capire le caratteristiche di ogni cavallo sull'ingresso e l'uscita da San Martino, lo stesso per la curva del Casato. Sempre l'onda che fa un assolo anche perché sono tanti colonnini di distanza dalle altre contrade mentre inizia a doppiare le contrade che stanno facendo un leggero canter in pista. Ancora il Casato con l'onda, vediamo la selva, onda che va al Casato con un tempo di galoppo molto contenuto e la conclusione della prova stessa, il mortaletto.